Tradurre, che è capire, significa allora passare per il non detto quasi detto, garantendo all'opera di accedere oggi, almeno, a una parte di quello che avrebbe voluto dire, a un po' più della sua verità. La traduzione non deve essere il calco della letteralità della poesia, ma l'ascolto del desiderio di chi la scrisse e il componimento di quel desiderio in un testo rimasto suo. Essa deve udire un richiamo e dargli risposta, deve aiutare l'opera nel suo sforzo più difficile, che fu sempre, per la trasgressione poetica, di percepire ciò che stava compiendo, ed allora illuminarla, mostrando di più la sua inscrizione nella storia.